Siamo alla NetPartner Academy del 2016, qual è il valore della partnership tra Cisco e NetApp? È una partnership di lunga data, principalmente basata sull'architettura convergente FlexPod che sostanzialmente consolida le potenzialità delle piattaforme Cisco di computing e di connettività e la parte di storage di NetApp. Una partnership nata ormai da quasi sei anni, FlexPod ha avuto un successo importante nelle architetture convergenti e nei processi di trasformazione del data center sui vari mercati. È una partnership consolidata che viene rinnovata nel tempo per effetto delle nuove tecnologie a disposizione, dei nuovi benefici e dei nuovi casi di applicazione sui diversi mercati. Interessante e stimolante il titolo della sua presentazione, pensare convergente più velocemente con FlexPod ad vantaggio. Allora, ecco, vediamo un attimo quali opportunità quindi per i partner? Senza dubbio l'ambito delle architetture convergenti e integrate è un ambito estremamente importante perché consente, come ho detto in precedenza, di combinare tecnologie differenti dando un vantaggio principalmente di capacità di orchestrazione delle risorse data center in maniera flessibile e liquida attraverso anche una piattaforma univoca di gestione delle risorse. E poi, fondamentalmente, come abbiamo cercato di esprimere nella presentazione, dà un enorme vantaggio dal punto di vista del total cost of ownership, di adozione dell'infrastruttura, perché va a indirizzare delle spese e degli elementi estremamente importanti come gli spazi, consumi, la parte di condizionamento del data center, ma soprattutto la parte di gestione, orchestrazione e di provvigioni iniziali dell'infrastruttura. FlexPod dall'inizio ha poi consolidato un numero di architetture diverse, di design validati da Cisco e da NetApp, estremamente importante. Oggi abbiamo più di 100 architetture validate, un po' per tutti i gusti, un po' per tutte le realizzazioni, dalla grande enterprise alla piccola realizzazione, da applicazioni più tradizionali e applicazioni di nuova generazione. Quindi abbraccia FlexPod una varietà di casi, di use case, di applicazione, di implementazione estremamente ampia e estremamente, direi, al 100% di quello che possiamo trovare sul mercato. Durante l'ospicio lei ha parlato di alcune innovazioni in termini di certificazioni, può raccontarvi? Sì, un elemento che abbiamo segnalato perché è un elemento importante, la proposizione Cisco UCS all'interno di FlexPod era, diciamo, necessitava fino a pochi mesi fa per la parte di Blade System di una certificazione che è la certificazione UCT. È una certificazione estremamente importante perché dota il partner di una competenza importante e rilevante per la parte di innovazione della piattaforma. Tuttavia, dopo un po' di tempo abbiamo visto che, diciamo, la readiness e la competenza dei partner sul mercato era ottimale e quindi abbiamo tolto la necessità di avere questo tipo di certificazione, del conseguente di questo tipo di certificazione per la proposizione UCS Blade Server. Questo ci garantisce il fatto che sia più open distribution, quindi sia a disposizione di un maggiore numero di entità e di partner sul territorio però garantendo il fatto che la certificazione non scompare, quindi i partner che vogliono dotarsi di una competenza importante e anche di accesso di incentivazioni specifiche e importanti in questo senso comunque continuino ad avere il valore di una certificazione completa sia dal punto di vista sales che dal punto di vista pre-sales. Grazie!